Ben ritrovati a tutti a tutti a questa quarta parte del corso sulle espressioni regolari nella quale vogliamo parlare di SED, ovvero l'editor di flusso che ci permette di filtrare e modificare file di testo. Allora, cosa significa prima di tutto editor di flusso? Quindi SED è una sigla che sta per Stream Editor, appunto editor di flusso tradotto, e ha lo scopo appunto di filtrare e modificare file di testo, quindi è un editor, da linea di comando. Quindi è un editor che agisce, opera in modo non interattivo, ovvero senza la classica interattività dei normali editor di testo. Qui ho aperto G-Edit, quando noi parliamo di editor di testo che sia nano a livello di terminale o che sia G-Edit a livello di interfaccia grafica, noi con editor di testo intendiamo questo, che possiamo interagire nel testo con il mouse, con i tasti, ovviamente digitando il testo, coppia, incolla, eccetera, eccetera. Insomma tutta l'interattività normale di una finestra applicativa. Ecco, SED non è così, nel senso che appunto è un editor non interattivo, ovvero di flusso. Quindi SED agisce in modo indipendente da noi una volta che gli abbiamo detto cosa fare. Quindi è un comando al quale gli diciamo devi lavorare su questo, su questi file di testo e devi fare questa operazione. Poi si fa Enter e SED fa tutto per conto suo. Alla fine ci troviamo i nuovi file di testo modificati come li abbiamo imposto di fare, senza l'interattività di mezzo. Ecco, quindi SED permette anche di agire in massa, quindi di eseguire delle operazioni di massa su uno o più file di testo. Il classico operazione di SED è la sostituzione di una stringa con un'altra, per esempio. Ecco, e questo permette di farlo in modo, diciamo così, automatico, senza dover far noi tutte queste operazioni interattivamente. Qui la nota di cui ho già parlato nel video precedente, quindi non ci soffermiamo. E passiamo subito alle opzioni e le forme di base di questo comando. Quindi vediamo che poi la struttura e il modello delle scalette del video precedente, di questo e dei prossimi, saranno più o meno simili laddove possibile, perché presentiamo un comando che usa le espressioni regolari. Per video, quindi un video è un comando. Allora, SED, dicevamo. L'operazione più comune che viene fatta con SED, quella più utilizzata tra quelle possibili, è la sostituzione, appunto, come dicevo poc'anzi, di una stringa con un'altra. Ecco, come si fa? Vediamolo subito con questo esempio. Quindi, copio, provo a copiare e incollare, dall'esperienza del video precedente, non è proprio il massimo copiare e incollare dalla scaletta, perché ogni tanto poi i caratteri vengono sostituiti con dei caratteri che sembrano quelli giusti, ma qui mi sembra tutto corretto anche dal colore della sintassi. Allora, questo è un esempio di utilizzo di SED con il comando di sostituzione di una stringa con un'altra. Allora, io qui in gedit, sullo sfondo qui sulla destra, ho aperto il file mod.sed.txt, che è il file, diciamo così, di output degli esercizi che faremo qui con SED, quindi un file di lavoro, nel quale archiviamo, memorizziamo il risultato del lavoro di SED. E come file di partenza, in questo esempio, usiamo il solito consueto ormai, testo campione txt. Cosa, com'è strutturato il comando? Quindi SED, ovviamente, il nostro streaming editor, streaming, no, stream editor, scusate, sembrava un po' troppo lungo il nome. Il nostro stream editor, cosa gli diciamo di fare? Apertura dell'apice, per dire da qui in avanti, inizio a descriverti, caro il mio SED, cosa dovrai fare. E quindi, fra apici, aperto e chiuso qui, ci sta l'operazione che lui deve fare. S vuol dire substitution, ovvero sostituisci, cambia qualcosa con un'altra. Questa barra, la slash o la barra qui, sta a indicare l'inizio del primo parametro, ovvero della stringa che SED deve cercare per poi sostituirla con quest'altra stringa che è compresa fra la seconda barra e l'ultima barra. Quindi, praticamente, comando, sostituisci, che cosa devi andare a cercare per sostituirlo, altra barra e la stringa sostitutiva, ok? Quindi cambia questo con questo. Poi, su che cosa deve lavorare? Quindi gli si dà il file di testo o i file di testo, se si vuole lavorare su più file, in questo caso stiamo tranquilli su uno che è più che sufficiente, e poi la solita deviazione dell'output, è questo qui, deviamo il risultato di SED, invece che farlo stampare a video sul terminale, lo deviamo sul file, appunto, mod SED, che sta qui dietro, tranquillo, tranquillo. Qui c'è ancora il contenuto dell'ultimo esempio fatto con grep, è dell'esempio del video precedente, quindi adesso andrà a sostituirsi questo contenuto con questo. Allora, concretamente, però, cosa gli andiamo a dire, per vedere poi a occhio che effettivamente ha fatto il lavoro, di cercare queste due sigle, queste due, questa stringa, GNU spazio GPL, che li vediamo qua, GNU spazio GPL, qui ce ne sono alcune diverse, in tutto il testo, non so se ci sono altre più avanti, non mi ricordo, babà, si ce n'è ancora una qui, GNU GPL, eccetera, vabbè, va a cercare tutte queste, e sostituirà questa sigla con questa scritta più estesa, quindi, GNU General Public License. Facciamo Enter, ecco, in un nanosecondo SED ha finito il suo lavoro, ok? Vediamo se è vero, quindi qui Mod SED che è aperto, mi dice ricaricalo perché è stato modificato, e vediamo cos'è successo, ed ecco qua che in effetti dove c'era GNU GNU GPL, ora c'è GNU General Public License. Ecco qua, ecco qua, in tutte le occorrenze che abbiamo visto un attimo fa, forse c'era anche quella più, eccola qua, quella anche in fondo, sono state sostituite in modo automatico, senza nessuna interattività da parte nostra. Abbiamo detto a SED, fai quel lavoro, lui l'ha fatto, Enter è finita lì. Quindi vedete la potenza, già l'utilità di questo comando, di questo editor da linea di comando, possiamo integrarlo ancora una volta con, in uno script fish o bash o quello che vogliamo noi, e lui farà lavori di questo tipo. Non scordiamoci che adesso io vi sto mostrando un video per ogni comando separatamente, ma non scordiamoci che così come i comandi delle espressioni regolari sono dei mattoncini che possono essere composti per raggiungere il risultato, così anche questi comandi, grab, sed, eccetera, possono essere combinati, per esempio in una pipe, per eseguire un lavoro anche complesso, passo dopo passo, e ottenere alla fine il risultato che ci interessa. Quindi non scordiamoci mai che qui vediamo un comando alla volta per conto suo, ma tutte queste cose, come ben sappiamo, possono essere a loro volta combinate, sono dei mattoncini a loro volta che possono essere sempre combinati per ottenere una struttura più complessa e alla fine ottenere il nostro risultato. Questo ci tenevo a precisarlo perché magari concentrandoci comando per comando poi ci si scorda che è solo un elemento del tutto. Quindi avete visto che SED è semplice in sé, la funzionalità più usata in assoluto di sé, ovvero la sostituzione, questo S, comando S, che è molto semplice, richiede due parametri e poi funziona così, in un attimo, molto veloce ed efficiente. Si può anche indicare un, come dire, un intervallo di righe di un file di testo sul quale intervenire, non necessariamente come in questo caso dobbiamo agire su tutto il file. Ecco, in questo caso ha agito su tutto il file perché non ha avuto indicazioni contrarie, ma questo comando può anche essere ampliato con un'ulteriore opzione che vediamo qui. Eccola qua, SED, quindi prima del comando di sostituzione, quindi da qui in avanti, è esattamente lo stesso comando, ma prima ci sono un paio di parametri, 1,30 che sta a indicare le prime 30 righe, quindi il testo verrà modificato a partire dalla prima riga fino alla trentesima, tutto il resto che segue oltre la trentesima verrà lasciato nella forma originale, quindi se faccio Enter anche qui, SED ha fatto il suo lavoro, ricarica, vediamo che qui ha fatto le sue sostituzioni, come ci aspettiamo, fino alla trentesima riga, dov'è la trentesima riga, ecco qua, fino qua, ufficialmente lui ha lavorato fin qua, SED, da qui in avanti non ha più toccato nulla perché gli abbiamo detto fermati lì, e vediamo in effetti che la sostituzione qua, in fondo, questa è ancora come l'originale, GNU-GPL, vedete qua, perché è oltre la trentesima riga, è anche quella più o meno in fondo, dove era qua, ecco, GNU-GPL, sono rimaste intatte, quindi possiamo anche discriminare quale parte dei file di testo far modificare a SED e fargli interrompere il lavoro prima della fine del file di testo. Qui una nota, per far agire SED, per esempio, in questo caso, dalla trentonesima riga alla fine, quindi per il resto del testo, usare l'intervallo trentuno virgola dollaro, ecco, dove dollaro sta per l'ultima riga del file, quindi noi volessimo agire non dalla riga uno alla trenta, ma per chissà quale motivo, in realtà vogliamo agire dalla trentunesima alla fine del file, quindi all'ultima riga, che la prima ovviamente sappiamo che è la numero uno, l'ultima non la sappiamo a priori di quante righe è composto quel file di testo, quindi abbiamo, come dire, il simbolo, la variabile dollaro che dice fino alla fine del file. Se rifacciamo questo comando, questa volta, le prime trentarighe sono state ignorate, quindi vedete che non è stata sostituita, in effetti, la stringa. Non è stata sostituita perché fino alla riga trenta gli abbiamo detto di lasciare l'originale. Dalla trentuno in avanti, invece, ci aspettiamo che abbia fatto le sostituzioni. Vediamo un po'. Vedete qua? Ha fatto la sostituzione, così come qua ha fatto la sua sostituzione, ma non prima, non le due o tre sostituzioni qua all'inizio, perché erano prima della trentunesima riga. Ecco, vedete che, anche solo con queste poche opzioni, capite un po' le potenzialità di sede, che poi appunto, stiamo guardando in modo limitato, anche le varie opzioni, se ne ha di più di opzioni, però queste sono già parati che servono a capire un po' cosa serve e come funziona. Una particolarità, o tra virgolette, non so neanche se chiamare una stranezza, ma una particolarità specifica di sede è la separazione di un parametro dall'altro qui, fra gli apici, quando gli si indica cosa fare. Per, come dire, per difetto, per convenzione, comunemente, e anche se si cercano in rete dei comandi che usano sede, si vedono praticamente sempre le barre, le slash, queste qui. Queste sono i separatori di un parametro da un altro. la barra, la slash, questo per convenzione, per abitudine, viene sempre praticamente usata quella. Però sede, in realtà, ci permette di usare un qualsiasi carattere, non necessariamente la barra. Se io riprendo l'ultimo comando, giusto per mostrarvi cosa intendo, quindi al posto di questa slash, io metto, come vedo lì in scaletta, per esempio il cancelletto, io posso benissimo mettere, basta che il numero dei cancelletti sia coerente con la sintassi di sede, ovvero, minimo tre cancelletti, uno, due, tre, per i parametri, faccio enter, il comando funziona esattamente allo stesso modo. In poche parole, sede, a sede non importa molto quale sia il separatore dei suoi operatori, della sua sintassi per operare, non gli importa che sia questa barra, non deve essere per forza quella, ma possiamo metterci quello che vogliamo. Questo, utile, sì, no, magari se nelle stringhe di sostituzione qua abbiamo proprio a che fare con quella barra qua stessa, magari diventa più chiaro leggere il comando se invece della barra per separare i parametri usiamo un altro carattere così che possiamo inserire la barra nelle stringhe di sostituzione e rendere più facilmente leggibile il comando. ecco, forse questa è l'utilità che posso vedere in questa opzione, in questa possibilità di sede. Poi, ecco, un altro punto di attenzione è che sede per difetto sostituisce solo un'occorrenza per riga, ovvero la prima che trova, per intenderci, se su questa riga ci fossero state due sequenze GNU-GPL sulla medesima riga, lui avrebbe sostituito questi comandi che abbiamo appena fatto di esempio, avrebbe sostituito solo la prima ma non la seconda e qui possiamo vederlo con questo esempio anche senza usare un file ma usando un comando echo adesso qui vediamo un po' oh 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 questo non c'entra ma proprio non c'entra ecco così il comando finisce qua com'è l'esercizio qui? mando via pipe a sede questa stringa dove c'è scritto qui qua qua eccoci qua in sostanza in questa stringa abbiamo due volte qua una qui e una qui a sede ordino di sostituire il termine la parte di testo qua con paperino se faccio enter vedete che succede quello che ho appena detto ovvero che sede cerca qua ne ha trovato qua l'ha sostituito con paperino e poi ha smesso e passa alla prossima riga ufficialmente ecco qui con echo è una riga sola di testo ma lui andrebbe avanti con le prossime righe di testo ce ne fossero ma la seconda occorrenza di qua non l'ha sostituita non è necessariamente un male questo possono esserci situazioni pratiche nelle quali noi abbiamo proprio questa esigenza ovvero di sostituire una sola occorrenza per riga non chiedetemi un caso effettivo pratico ma perché no può essere un caso effettivo in cui c'è bisogno che sede sia come dire pigro e non avido di andare a cercarsi tutte le sue occorrenze automaticamente per difetto per sostituirle tutte c'è ecco che qui torniamo a parlare di flag un po' come nelle espressioni regolari c'è il flag g che vuol dire global lo stesso simbolo g per lo stesso significato quindi sed agisci in modalità globale se io ti ti attivo il flag global g dove lo si mette dopo l'ultima barra dopo l'ultima slash qua l'ultima barra quindi io adesso faccio lo stesso comando lo richiamo e vengo in qua e metto g attivo il flag g vuol dire stavolta cerca le tutte le occorrenze per ogni riga faccio enter e vedete che paperino appare due volte tutto lì flag g esattamente stesso significato stessa funzionalità del flag g delle espressioni regolari guarda un po' che coincidenza i casi della vita e quindi andiamo avanti sostituire specificatamente un'occorrenza anche questo è carino da sapere un po' per chiudere il cerchio di tutte le combinazioni quindi sed per difetto cerca la prima occorrenza e sostituisce solo quella se gli diciamo sostituisce le tutte col flag g lui le cerca tutte ce ne fossero dieci le cambierebbe tutte dieci ma c'è anche la possibilità di dire sostituisci una specifica indice di occorrenza cioè la prima o la seconda o la terza o la quinta eccetera eccetera quindi vogliamo sostituire solo la seconda occorrenza e non la prima e non quelle successive se esiste ovviamente la seconda si indica si indica al posto del flag g si indica il numero l'indice della corrispondenza che vogliamo sostituire al posto del flag g quindi poche parole torniamo al nostro comando invece di g metto 2 e vedete che la prima occorrenza qua è stata ignorata e la seconda è stata è stata sostituita giusto per vediamo un po' paperoga nonna papera paperoga nonna papera nonna qua papera ecco ho voluto espandere il tutto avere tre volte la parola qua nella frase e gli ho detto comunque di sostituire solo la seconda vedete che la prima l'ha ignorata la terza l'ha ignorata e così via quindi abbiamo tutte le opzioni possibili quindi la prima tutte solo la seconda o solo la terza o quello che è insomma mettiamo terza vedete che ha sostituito solo la terza e non la prima e non la seconda e così via quindi vedete ci si può come dire giocar bene con queste opzioni in modo da intervenire sul nostro file di testo in svariati modi e riuscire ad eseguire delle operazioni di massa di sostituzione di massa anche in modo abbastanza semplice se vogliamo certo che tutto dipende anche da come è fatto il file di partenza eh se c'è una certa regolarità una stringa regolare da sostituire eccetera eccetera non è è chiaro che se un file di testo è particolare molto irregolare ci saranno anche dei problemi ad usare comandi come questi che sono fatti per delle operazioni di massa con delle regole fisse però appunto dipende da anche dalla qualità del file di partenza la possibilità di poter usare in modo proficuo meno comandi di questo tipo più o meno proficuo ecco quindi abbiamo visto anche questo molto bene resta la solita solita opzione di ignorare il maiuscolo e il minuscolo perché anche questo può essere fastidioso in un file di testo dove abbiamo una stringa che non sappiamo bene se ha qualche lettera maiuscolo o minuscolo al suo interno per andare sul tranquillo e se siamo sicuri che dobbiamo sostituirla indipendentemente dal maiuscolo al minuscolo possiamo attivare l'altro flag flag i anche questo coincide con quello delle espressioni regolari flag i vuol dire ignora il case ovvero maiuscolo minuscolo uguale una a è sempre una a eccetera eccetera questo si usa aggiungendogli il flag i dove avevamo già messo la g si possono anche mettere tutte e due quindi gi faccio enter sostituisce tutte le occorrenze di qua indipendentemente che qua sia scritto maiuscolo o minuscolo possiamo anche fare una prova già che ci siamo e voilà le sostituite tutte perché ho attivato anche il flag i e qui abbiamo visto le forme di base di sed molto bene facile no? più andiamo avanti più ci sono entrate nella testa anche le regole dell'espressione regolare più diventa facile trovarsi in queste opzioni che si assomigliano poi tutte ok la vera potenza di sed si manifesta con l'uso di espressioni regolari vediamo anche qui come con grep qualche esempio è per sed dunque un simbolo particolare di sed specifico di sed lo vediamo subito qui è il l'e commerciale l'end qui questo qua ecco cosa serve in un comando sed questo end serve ad inserire nel risultato l'occorrenza trovata durante la sostituzione ovvero con un esempio lo capiamo eh allora copio il mio bellissimo esempio sempre sperando che i caratteri i miei copi giusti sembrerebbe allora cosa gli diciamo di fare qua ed è scritto qua gli diciamo di cercare tutte le parole tutte quindi flag globale g quindi in tutta questa stringa che gli diamo in pasto via pipe gli diciamo g ecco qui giusto per mostrarvi un'altra volta che non necessariamente deve essere la barra separare i parametri di sed qui ho deciso giusto per variare sul tema di usare i due punti quindi questi due punti sono i separatori dei vari parametri di operativi di sed ecco è a posto della barra solita quindi prima di tutto qui c'è appunto il flag g flag g che vuol dire percorri tutta tutte le righe di testo e verifica le tue occorrenze su tutta la riga su tutta l'ampiezza della riga poi con la barra w che ormai conosciamo delle espressioni regolari va a cercarsi le parole quelle separate dalla punteggiatura non ci fosse il quantificatore asterisco sarebbe un solo termine un solo carattere delle parole il primo eccetera eccetera ma abbiamo l'asterisco che vuol dire zero o più caratteri quindi tutto questo messo assieme vuol dire proprio le parole intere quindi cosa deve cercare le parole intere e sostituirle con cosa con parentesi e commerciale chiusa parentesi stando la descrizione della e commerciale io mi aspetto che questo comando di sed mi trasformi questa stringa mettendo fra parentesi ogni parola trovata vediamo se è vero ed è verissimo quindi le commerciale come dico qui inserisce un'occorrenza trovata nella sostituzione ovvero praticamente quello che trova con questi parametri qui davanti scusate questo quello che trova qui le commerciale lo riporta qui nella stringa di sostituzione quindi posso innestare nella mia sostituzione l'originale e quindi l'originale in questo caso era determinami filtrami tutte le parole quindi lui ho iniziato a dire ok prova una parola ci metto attorno le parentesi te lo stampo 156 è una parola perché il punto è considerato punteggiatura il decimale quindi 156 fra parentesi 47 fra parentesi eccetera vedete che funziona perfettamente grazie a tutti